Grazie Presidente, ringrazio l'assessore per la risposta alla nostra richiesta di comunicazione che è piuttosto succinta, immagino sia dovuto anche ai tempi ristretti con la quale sia stata chiesta, ma ci auguriamo che anche nelle sedi competenti, tra cui la seconda commissione, sia poi ampliata la discussione e soprattutto alla luce sia di quello che è stato novellato in materia nazionale per quanto riguarda le leggi che sono state varate, il disegno di leggi che è stato varato pochi giorni fa e che sicuramente avrà degli effetti che poi dovremo valutare col tempo, sia perché vorremmo un focus un po' più attento su quella che è la realtà toscana, perché se è vero che questa comunicazione è stata richiesta in base a quelle che sono delle notizie che vengono dalla stampa, tuttavia e quindi come tali che necessitano un particolare approfondimento per essere sicuri che abbiano un fondamento reale, nonostante questo però è necessario un approfondimento maggiore sul caporalato con delle proposte di risoluzione eventualmente che valuteremo come d'accordo nella Capigruppo e nella seduta successiva, perché in ogni caso il fenomeno del caporalato di fatto in Toscana è emerso già in altre circostanze. Nell'interrogazione avevamo chiesto in maniera più puntuale che ci fosse dato anche un polso della situazione attuale, quindi di qual è la percezione della Giunta e di quelli che sono i dati effettivi, che ci auguriamo magari di avere un futuro anche per capire bene l'intervento che è stato fatto a seguito anche della mozione presentata dal PD stesso, in che direzione andavano e da quello che ho capito qui sembra che vadano nella direzione più opportuna. Tuttavia devo dire che questo schema di protocollo che appunto è stato sottoscritto oggi vedo che avrà validità fino alla scadenza dell'anno e da qui dovranno essere verificati i risultati prodotti. Sì, devo dire che da qui a fine anno la valutazione dei risultati prodotti dell'anno successivo. Una lettura frettolosa mi aveva fatto vedere la fine di questo anno e appunto stavo dicendo che due mesi i risultati erano obiettivamente poco difficili da valutare. Quindi ben venga che l'attenzione sulla questione del caporalato, che qui è specificato nell'agricoltura ma anche nell'edilizia è altrettanto grave, sia tenuta ben presente e qui mi permetteranno una nota politica sul caporalato e su quello che purtroppo è stato evidenziato con l'introduzione dei voucher nel Jobs Act, che purtroppo è stato visto da tre studiosi, tre ricercatori dell'Inps stessa, che da quanto verificato finora non è servito a far emergere il lavoro nero, che alla fine è uno degli aspetti più aberranti del caporalato, bensì semplicemente a far costare meno il lavoro. E di fatto si è assistito a un utilizzo dei voucher, come purtroppo in molti avevamo previsto da Facili Cassandre, l'utilizzo dei voucher come una forma legalizzata di precarizzazione e caporalato. Mi dispiace dirlo perché guarda caso dei settori tra i più utilizzati dei voucher ci sono proprio l'edilizia e l'agricoltura, vuoi per le necessità che sono di questi due settori, che spesso sono stagionali, ma anche per un utilizzo distorto che per come è stata prevista da legge purtroppo si poteva prevedere. Quindi ci auguriamo che questa sensibilità che ci auguriamo la Regione Toscana continua a mantenere sul settore, venga poi passata anche a livello nazionale per cercare di capire che quando una scelta è fatta ed è sbagliata, e si poteva prevedere che era sbagliata, forse delle volte bisogna avere anche il coraggio e l'umiltà di fare un passo indietro e capire che probabilmente si può prevedere qualcosa di migliore. La precarizzazione del resto con l'abolizione dell'articolo 18 è un dato di fatto. I voucher veramente sono una brutta pagina nell'ambito del lavoro che avremmo voluto non vedere scritta in Italia. Quindi ringrazio ancora l'assessore e immagino che saranno fatti ulteriori approfondimenti e spero che ci saranno date anche ulteriori informazioni in futuro sull'argomento.